Tutti preoccupati là? Agrigento? Tutti. Aspettano le cene di Pierandello. Piano! Piano! Piano, piano! Slow down! Oh, slow, slow. Yes, ok, ok. Slow down. Ok. Ci possono chiedere di pedere in un vaso greco? Con il funerale che attraversa Agrigento? C'è tanto a levarsi il cappello davanti a un vaso? Ce lo possono chiedere? Tagliato, sta ruando. Hai visto? È morto un bambino. Tagliato, iso theory focuses all the way you are. Tagliato, uso theory些��. Pegliato, canast snort��� odono da unесяco, Tagliato, Lorenzo e glò diichone, thirty mainklipo card님이 con able to mind Hz sub of Ancella, a due date not only well the mass Always明z bout di already, Tagliato, facciproค悬. Tagliato,wirtschaftOacci, Grazie a tutti